Mo Salvini dice di essere minacciato? Diamo la scorta pure a Salvini, così è contento. È questa la battuta dell'attore e regista Gigi Proietti alla DN Kronos dopo la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Milano di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre. L'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva affermato «Le minacce, da parte di chiunque, sono gravissime. Quelle che io quotidianamente ricevo, quelle contro la Segre, contro Salvini e contro chiunque, sono gravissime». Proietti ha commentato «Forse ci siamo distratti. È da tempo che in questo paese ci sono segnali strani, direi inquietanti. Spesso le dichiarazioni di persone che dovrebbero rappresentare il popolo sono preoccupanti. Io, se parlo, parlo per me, mentre i politici parlano per i propri elettori. E questa cosa è molto preoccupante.